Buongiorno dalla redazione web della città di Torino, ben trovati al nostro secondo appuntamento con le notizie dal web della città, vi ricordo che siamo come al solito in diretta sul nostro canale Ustream, saremo poi disponibili a partire dalle 17 anche sul nostro canale YouTube, vedete in sovrimpressione gli indirizzi per poterci raggiungere. Cominciamo con le notizie di viabilità che sapete aprono sempre le nostre edizioni, allora vi ricordo questa sera alle 20.30 allo Stadio Olimpico abbiamo la partita di calcio Juventus-Catania, quindi probabili difficoltà di parcheggio e di circolazione nella zona dell'Olimpico. C'è ancora un divieto di transito fino alle 18 in via Principio Amedeo tra la via delle Rosine e via San Massimo per alcuni lavori sul manto stradale. I semafori in manutenzione per quanto riguarda la giornata di oggi sono via Nizza, angolo corso Spezia, corso Novara, angolo via Cattania, corso 11 febbraio all'altezza del Ponte della Dora, corso San Maurizio, angolo viale dei Partigiani e via Denina. Questi saranno in manutenzione anche domani. Per quanto riguarda oggi ancora piazza Sofia e poi corso San Maurizio, angolo via Denina e via Le Partigiani, come vi ho appena detto, e via Nizza, angolo via Valperga Caluso e corso Sommelier. Domani ne aggiungiamo due, quello di via Botticelli, angolo via Ancina e quello di corso Inghilterra, angolo via Duchessa Iolanda. Vi ricordo che queste notizie di viabilità le potete trovare sul sito dei vigili urbani nella sezione ultimo minuto, potete anche ricevere queste notizie gratuitamente via email nella vostra casella di posta. Vediamo la situazione del meteo in città. Allora, le rilevazioni dell'Arpa Piemonte sono delle ore 15, le vedete sulla nostra homepage. Il tempo è sereno, una temperatura intorno ai 20 gradi, di poco inferiore un'umidità del 45%. Le previsioni per quanto riguarda la sera, la notte e il mattino di domani ci danno un cielo sostanzialmente poco nuvoloso. Bene, dovremmo essere in collegamento con Torino Click, l'agenzia quotidiana del Comune di Torino che si occupa di diffondere le notizie degli uffici stampa. Allora, diamo la linea a Mauro Marras e sentiamo che cosa ha da dirci. Mauro? Buongiorno a tutti. Anche nel numero di oggi a fare un po' la padrona sarà la prossima domenica 28 settembre che sarà innanzitutto una domenica ecologica, quindi con le limitazioni di accesso al centro per le auto private, ma soprattutto sarà ricca di eventi a partire da portici di carta alle manifestazioni tipo Red Bull, piuttosto che le corse di auto di carta e le mostre che si stanno aprendo in piazza San Carlo. Quindi sarà una domenica particolare e noi diamo un po' di elementi per spiegare che cosa succederà domenica e poi parleremo dell'incontro che si è avuto oggi a Palazzo Civico tra il sindaco di Schamberi e il sindaco di Torino. Schamberi è una città gemellata ed è un ex capitale sabauda come Torino e quindi c'è un fitto legame che le lega. Grazie Mauro. Allora l'appuntamento con Torino Click è per questa sera, come sapete, a partire dalla nostra home page e dall'indirizzo che state vedendo ora in sovrimpressione. Vediamo le notizie dal web della città. Una notizia che vi segnalo è quella relativa ad alcune riqualificazioni urbane che ci sono state in città, che sono in corso in città, in particolare una riguarda Piazza Bernini. Domenica 5 ottobre ci sarà l'inaugurazione ufficiale della piazza a partire dalle 15 con una festa che prevede una serie di manifestazioni nella zona. Trovate a partire dalla notizia alcune informazioni in più a partire dal volantino dell'iniziativa e anche la segnalazione di una nuova riqualificazione che sta per partire, cioè una nuova passerella ciclopedonale sulla Dora all'altezza di Corso Verona. Nel pieghevole informativo collegato dalla notizia in home page avrete maggiori dettagli. Passiamo a vedere come ultima cosa le webcam sulla città. Allora ci colleghiamo con quella di Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città. Vedete in questo momento inquadrato il monumento al Conte Verde. Ci spostiamo sulla rotonda autostrade verso la Torino Milano. Vedete la situazione del traffico è decisamente scorrevole, non ci sono particolari problemi. Con la regione Piemonte andiamo in Piazza Castello e inquadriamo Palazzo Reale e infine con il consorzio 5T ci rispostiamo verso nord in Piazza Derna, la direzione centro città, alcune auto alla rotonda, ma niente di particolarmente critico. Bene, ritorniamo in onda per darci appuntamento domani mattina alle 9.15. come al solito il nostro primo appuntamento quotidiano. Io vi auguro una buona serata.